Prima settimana di ottobre, siamo già avviati verso quelli che saranno i prezzi e le offerte di quest'ultima parte dell'anno e tra l'altro 10 e 11 ci sarà anche una sorta di mini Prime Day, una festa delle offerte Prime su Amazon quindi io vi consiglio di seguire i canali offerte che trovate giù in descrizione su Telegram e oggi facciamo un piccolo recap della situazione prezzi, perché? Perché ci sono a mio avviso una serie di piccole cose da dire e da tenere in considerazione specialmente per chi è interessato alla classica fascia delle 1000€ di PC, ok? Ma prima ragazzi, spazio al nostro sponsor che ormai da diversi mesi è Ukies Ukies è la piattaforma più affidabile per l'acquisto delle vostre chiavi di Windows Il sito infatti vi mette a disposizione chiavi OEM, ovvero delle chiavi che potete riutilizzare ogni volta che formattate il vostro PC All'interno del sito potete trovare Windows 11, chiavi di Windows 10 in tutte le versioni Home e Pro con cui potrete fare anche eventualmente l'aggiornamento, oppure chiavi di Office e tanto altro Questo mese tra l'altro, grazie alla promozione Back to School, si parte da un prezzo veramente vantaggioso che è di 13,89€ per Windows 10 e di 20,56€ per Windows 11 Cosa stai aspettando quindi? Codice sconto MHD in descrizione, acquisto sicuro tramite Paypal La chiave vi arriva in pochi minuti tramite email e vi basterà semplicemente inserirla nel vostro Windows ed il gioco è fatto Bentornati, bentornati ragazzi in un nuovo video, bentornati su MV Hardware Se non conoscete il mio canale iscrivetevi, che cosa state aspettando? Lasciate un like e fatemi sapere con un commento in generale quello che pensate della faccenda Qualche mese fa abbiamo visto con un video come in generale effettivamente la situazione dei prezzi del gaming a 360 gradi su tutte le componenti sia attualmente una situazione favorevole perché tante componenti, processori, SSD, RAM sono effettivamente calate di prezzo Ok, rispetto a 2-3 anni fa quando gli SSD costavano un botto quando i processori non erano così assortiti su tutte le fasce oggi praticamente partendo dal 5600 andando mano a mano a salire ogni 50€ abbiamo quasi un processore da poter scegliere e delle piattaforme di tutto rispetto Allora io voglio partire da questa immagine che vi fece vedere già qualche video fa dove la questione principale dei PC da 1000€ come dicevamo era la piattaforma la scelta della piattaforma con il classico 5600 e B550 per la fascia veramente bassa fino alle B650 con Ryzen 7600 e in mezzo poi gli Intel sia con DDR4 che con DDR5 oggi siamo in una condizione dove intorno ai 1000€ se ci manteniamo poco su quindi 1000-1100€ riusciamo a prendere anche un 7600 con una B650 sotto sicuramente riusciamo ad avere già l'opportunità di prendere un Intel con delle DDR5 quindi a mio avviso oggi i piattaformi DDR4 sono veramente da tenere in considerazione per fasce inferiori quindi parliamo dalle 900€ a scendere 850, 800€ e così via il problema attuale dei prezzi però è che sono in una fase un po' di stallo perché fondamentalmente la maggior parte dei processori se voi vedete il 12400€ non è sceso di gran che costa sempre intorno alle 170-175€ prezzi Amazon e alla fine dei conti anche il 13400€ non è che è stato un processore che poi è andato a sostituire più di tanto il 12400€ perché il suo prezzo è rimasto stabile oltre le 240€ in giro e per me non è una CPU che vale tutti questi 70€ di differenza il 7600€ che vediamo qui ormai anche esso stabile intorno alle 240-250€ è rimasto così le RAM lo stesso ok non è che sono calate di prezzo le schede matri qualche volta si è trovato qualche offerta sulle B650 qualche X570 e 6 serie quelle là diciamo le serie X pure le 670 ma pure le B650 voglio dire si trovano ogni tanto io in questa configurazione ho una Ultra Tourable che è una sola a 155€ ma difficilmente si trovano a prezzi in minori SD forse sono saliti un po' di 5-10€ nell'ultima settimana tutto questo per dirvi che bene o male oggi alla fine con 1000€ sostanzialmente noi facciamo sicuramente la classica build basata su un processore 12400F questo è poco ma sicuro con poco più 1085€ riusciamo a fare una build un po' già di fascia superiore con piattaforma superiore 7600F B650 in questo caso la DS3H che si trova adesso a 150€ ma è una scheda che normalmente si trova intorno alle 170-180€ le DDR5 6000MHz Expo CL36 un Endorphy che è un ottimo case perché per veramente 69€ ragazzi questo è un ATX con già 4 ventole a RGB incluse con tanto di controller quindi attenzione perché in questo case 69€ è un best buy in questo momento alimentatore di Gigabyte P650B ci sta SSD e come scheda video siamo costretti ad andare sulla classica 6750 XT AMD ovviamente su queste fasce inferiori domina assolutamente perché la concorrenza offre poco e niente parliamoci chiaramente la 40-60 si è una scheda che può essere presa in considerazione ma con l'arrivo tra l'altro dell'FSR3 voglio dire c'è anche una sorta di rimescolamento un po' delle carte che vedremo poi prossimamente in un video dedicato e al di là di questo un'ottima build ma sono ormai mesi che noi facciamo build sempre e comunque simili basate su 12400F o su 7600 con schede video di questa fascia cioè 6750 XT 6750 XT al massimo una 40-60 Ti non è cambiato granché da luglio ad oggi e questa è una cosa che un po' interessa particolarmente il nostro di mercato il mercato europeo perché in giro c'è comunque una serie il giro nel mondo dico soprattutto in USA i prezzi settimana per settimana a volte calano Nvidia, AMD si fanno concorrenza perché se noi facciamo un baragone ragazzi miei dei prezzi ok dove stamattina e ieri una delle notizie diciamo che è rimbalzata è che la 7900 XT è droppata in USA a 749 e c'è stato pure un attimo ok dove si è trovata a 729 capite che questa cosa a noi in Europa non ci fa proprio bene la più diciamo base 7900 XT da Blue Price che sarà un negozio affidabilissimo tutto quello che volete voi ma io non ci ho mai comprato non li conosco non è la stessa cosa di comprare su Amazon parliamoci chiaramente sono affidabili quanto volete voi quindi che gli amici di Blue Price non la prendano diciamo sul personale ma acquistare su Amazon è una garanzia che altri negozi non vi possono dare perché voi avete un reso gratuito entro i 30 giorni avete l'opportunità di un reso su garanzia di due anni 788 euro ok quindi già abbiamo una differenza di prezzo che è di 30 euro ma 38 euro che non sono 38 euro perché il dollaro vale già o meno dell'euro anche se vale 5 centesimi se non mi sbaglio in meno la stessa cosa per esempio la 7800 XT io l'ho detto 200 volte no una ho detto 200 volte in America nonostante ogni stato abbia poi le sue tasse la sua tassazione l'MSRP di una gigabyte 7800 XT è di 499 e questo fa effettivamente la differenza anche in Italia o in Europa perché ci sono anche diciamo store in Germania in Spagna e in Francia la Pulse si trova a 552 con spese di spedizione arriva a 563 capite che la differenza c'è e quando noi consideriamo le schede dobbiamo tenerne conto la 6800 XT si trova a 419 dollari che non è un prezzo parliamoci chiaramente in America eccezionale ma se voi la stessa scheda la volete comprare qua in Italia ne dovete cacciare 460 di euro che non è la stessa cosa la 4070 inizia a scendere in America si inizia a trovare a 549 alcune volte su alcuni shop New Egg shop del genere si trovano anche qualche offerta qualche coupon qua la 4070 è scesa su alcuni store ma su Amazon voglio dire la trovate a 600 619 639 quindi c'è una bella differenza di prezzo e così anche per la 4060 Ti che costa almeno un 30 40 dollari in più la 4060 Ti da 8 giga che in America ancora ancora 369 e qualche volta con qualche piccolo coupon si risparmia noi qui cioè la troviamo a 400 euro minimo cioè 400 euro capite che ci sta una differenza sostanziale nel valore reale della scheda così come la 6007 che forse è l'unica che a 329 dollari si trova su New Egg in giro in Italia si inizia a trovare intorno alle 325 330 euro che non è un prezzaccio motivo per il quale l'ho inserita nella build che vi ho fatto vedere mentre la 6650 XT è uno dei best buy perché si trova a 229 dollari in America e qui si trova a 30 euro in più con lo stesso prezzo diciamo dobbiamo fare a cazzotti per comprare la 6600 che costa circa 200 euro 50 euro in più la 6650 XT che è una delle schede secondo me dopo la 6600 più interessanti da acquistare per la fascia bassa quindi capite che c'è un problema capite che mentre nel resto fondamentalmente del mondo occidentale quindi in America specialmente i prezzi mano a mano calano in determinate condizioni calano in concomitanze di determinati eventi lancio di schede drop delle schede AMD qui in Italia siamo gli ultimi ad avere questo tipo ok di cali sui prezzi e questo ci sta facendo un po' ristagnare ok sulle build ciò nonostante sono build che oggi facciamo comunque buone comunque ottime ma questo aspetto va un po' anche valutato il drop dei prezzi ha un significato non solo sul risparmio che una persona può fare nell'acquisto di una scheda ma ha un significato anche poi nel andare a piazzare nel mercato le schede nel fare una valutazione perché quando io all'uscita della 7800XT ho fatto una merda quella scheda e ancora io penso sia una delle peggiori schede AMD lato salto generazionale ma se quella scheda mi scende sotto i 500 euro qui in Italia o in Europa è ovvio che il vantaggio nell'acquisto cambia per chi non ha ancora acquistato una scheda video non per chi ha già una 6800XT una 6950XT ma cambia il posizionamento di mercato e le schede in base al prezzo se qui le schede non droppano è un problema parliamoci chiaramente fatemi sapere voi giù nei commenti che cosa ne pensate come sempre grazie di essere stati qui con me iscrivetevi al canale ricordatevi i link per le offerte di questi giorni 10 e 11 di ottobre e noi ci vediamo come sempre in un prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti Grazie per la visione!